Ciao a tutti ragazzi sono Brosmare199 e benvenuti in questa nuova video di ReaperGamers Oggi siamo nel terzo episodio del videogioco mafia e vedremo come svolgere questa missione È una missione abbastanza semplice, infatti ci basterà prendere un'auto, dirigerci al bar di Morello e distruggere tre auto Fatto questo la missione sarà finita, iniziamo subito Poli e Sam già li conosci Frank è il mio braccio adesso Si occupa degli aspetti illegali del nostro business Quello giaccio il bancone è Luigi Questo locale non è un granché, ma Luigi è un ottimo cuoco Poli ti presenterà Vincenzo e Ralph Siamo in parecchi Ma queste per ora possono bastare Ora ascolta e ascolta bene Qui abbiamo delle regole Non bastare i piedi agli sbirri Noi li paghiamo E non ti daranno noia Però se esageri ti si avventeranno concio Soldi o non soldi Se mai ti dovessero beccare Non dire nulla Ci penserò io a tirarti fuori So essere generoso con chi mi aiuta Ma inflessibile con chi ci adisci Hai capito? Si signor Salieri Bravo Oggi ti darò la possibilità di vendicarti di quei bastardi che ti hanno sfasciato il taxi Vedremo come te la cavi Morello conciò l'ombar fiaguantato dai suoi gorilla Parcheggiano le macchine oltre la recensione di fianco al locale Se sei in gamba Quelli domattina gioveranno andare a piedi Poli verrà con te, non si sa mai Andatela a Vincenzo per l'equipaggiamento e da Ralph per far vedere un'auto Non mi fiderei di lui Sembrava perplesso Ha accettato solo perché non ha altra scelta Vedremo Frank Vedremo Me preoccupa molto di più Il problema Morello Ha davvero intenzione di cominciare una guerra Vincenzo è l'esperto di armi del dono Si conoscono da quando erano bambini Qualunque cosa ti serve Dai Thompson ai cannoni Vincenzo te la trova Passo sempre a trovarlo prima di un lavoro Buongiorno Vincenzo Ciao Poli Ti presento Dom Ha appena cominciato con noi Piacere Dom Che posso fare per voi? Abbiamo un lavoretto Ci serve qualcosa per sfasciare qualche auto Questo classico attrezzo sportivo dovrebbe fare il caso vostro Se no... Ho preparato qualche Molotov Ma fate attenzione eh Grazie mille Vincenzo Riportate indietro la mazza è di mio nipote Sta tranquillo Ralf quello che sto per presentarti è mezzo scemo Ma è una specie di genio coi motori Io non me lo spiego come uno scimonito del genere possa capirne di auto Ma a volte la vita è sana Ehi! Chi si vede? Come ti va Poli? Ehi Ralfi! Vedo che zoppichi ancora Allora siamo in due a incespicare Giusto io però non sono scemo Ah Ralf questo è Tom Tom se gli porti un'auto rubata La farà diventare tua E nessuno se ne accorgerà mai Ralf, Tom e io dobbiamo fare un lavoro Scommetto che hai la macchina per noi Esatto Eccola qui Non è una scheggia ma... Dovrebbe andar bene Grazie Ralfi Andiamo Grazie Ralfi Andiamo Allora Allora come ci è stato detto Vogliamo raggiungere il bar di Morello Proviamo quindi la bussola in alto a sinistra sullo schermo E vediamo dove ci porta Una Ho? 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 Grazie a tutti. 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 Domi, non mi hai deluso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando mettete mi piace, condividetelo, iscrivetevi al nostro canale Ripper Gamers, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook. Alla prossima da brosmario199. Grazie a tutti. Grazie a tutti.